Chi sono queste suori? Sono delle consacrate che seguono il carisma di Dominutella, che credono a quello che dice e che lo accompagnano in questo cammino. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. Sono la mamma di Nadia, una delle figliole. Non fanno niente di male. Gli starò da mamma per tutte queste figliole e li aiuterò ad evangelizzare e a vivere questo cammino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.